Buongiorno, questo è uno spazio davvero speciale per voi ragazzi. E' uno spazio in cui potete essere protagonisti, come tante volte vi sentirete in questa scuola. E in questo spazio troverete un insegnante che sarà a vostra disposizione per ascoltarvi, per consigliarvi, con cui confrontarvi. Un insegnante che non sarà della vostra classe, ma che per tutto l'anno sarà a vostra disposizione, appunto per creare uno spazio in cui stare meglio, in cui riuscire veramente ad esprimere le proprie potenzialità. E questo insegnante, insieme ad altri, è coordinato dalle psicologhe dell'istituto che lavorano ormai nella vostra scuola da tanti anni. Se volete sapere di più su questo servizio, nel progetto del POF, del PTOF, dell'istituto, lo trovate alla voce GAPA. Ho una sigla un po' così strana, ma che significa gruppo di attenzione ai processi dell'apprendimento, perché il vostro apprendimento dipende anche molto da come state a scuola, da come vi sentite. Più state meglio, più il vostro apprendimento sarà un successo.